Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video L'ultimo episodio di Super Jack Aventure L'ultimo episodio di Super Jack Aventure Ragazzi, siamo arrivati all'ultimo episodio Ciao a tutti Siamo arrivati all'ultimo episodio di questo gioco E' stato molto bello Eppure si bloccava certe volte Però è stato sempre un bello gioco Questo qua è l'ultimo episodio E non ci perdiamo in chiacchiere Iniziamo dal livello 41 Ragazzi, l'ultimo episodio di Super Jack Aventure Di questo gioco, andiamo Ho cancellato Mobizen e poi l'ho riscaricato perché si bloccava, come sapete Ok, concentrazione Concentrazione e i risultati si vedranno Ok Ok, bene Ragazzi, benvenuti Sì, c'ho mai fatto Seguitemi su Tik Tok Che l'ho aperto pure il canale Mi chiamo MaxGamerOfficial89 Tutto attaccato Su Tik Tok Su YouTube MaxGamerOfficial No, ragazzi Come già sento Come già sento salto e mi prego grande ragazzi sì 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 43 ragazzi 43 livello 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 completato ragazzi ok ok no ancora ma ancora si blocca ragazzi ma allora non è probleme allora è un problema il telefono e si blocca un po' è baggato sto cazzo questo telefono è baggato perché io l'ho cancellato e poi l'ho installato dai dai forza tanto è l'ultimo episodio di Super GH Ventures così non mi fai più sto cosino questo stupido telefono proprio dai forza vado a vincere e la madonna che sei qua è pericolosissimo ok ok per un po' madonna mia è ero morto pensavo che ero morto io pensavo che ero morto mi raccomando mi raccomando sei qui dalla serie di grande sì grande ragazzi il cartone di questo telefono l'ultimo livello ragazzi ci siamo il 44esimo livello l'ultimo livello se vinciamo quel livello completiamo i miei video l'ultimo livello per i video di giocaventura è questo qua livello 44 ragazzi dai dai ce la possiamo fare nooo sono una morte stupida the hand aspettiamolo dai che faccio il giocco ma madonna mia stupida e adesso non si può fare più per coppa tua check dai sveglia ragazzi ci fate caso che adesso i video li sto facendo tutti nella mia stanza da letto nooo non è più io i video li faccio qui guarda ne ho avuto prima dai ok eeeh guarda lo facciamo dai dai forza ragazzi forza ragazzi ci possiamo vincere si forza dai che l'ultimo episodio dobbiamo vincere a 8 minuti e 21 ragazzi ragazzi il momento che finirò il video ci vediamo presto con un nuovo video ragazzi vedete bene perchè è l'ultima volta che vedete così è l'ultima volta che vedete ragazzi questa serie è stata davvero troppo bella ragazzi questa serie è stata davvero troppo bella questa serie è stata veramente molto bella io la volevo come potete vedere ci sono altri livelli ma no troppo sono non posso fare troppi video poi che si blocca ogni due o tre livello 44 ragazzi noi ci vediamo presto con un nuovo video sicuramente non più di Super Jack Aventures perchè l'abbiamo finito e da 44 e 43 e 45 è tutto ciao ragazzi abbiamo finito con Jack Aventures noi ci vediamo dopo domani con un nuovissimo video e ciao 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 ciao